Un libro, tre storie, storie di donne migranti, ognuna con un bagaglio di esperienze diverse ma in fondo uguali. Passati difficili e la ferma volontà di cercare altrove, una vita e un futuro che siano migliori. Storie che si vanno a intrecciare nelle pagine di Donne Destinazione Oltre, volume firmato da Salvatore Lanuzza ed edito da Il Viandante. Il libro, che è stato presentato in corte d'appello all'Aquila alla vigilia dell'8 marzo, festa internazionale della donna, in fin dei conti fa scaturire dalle sue pagine un messaggio che è chiaro e forte. Il messaggio è essenzialmente di speranza, è un messaggio assolutamente positivo. Le donne di questo libro sono le donne che cercano una vita migliore per sé, sono donne che hanno problemi che sono abbastanza comuni nel mondo diciamo islamico e non sono tratta di problemi di donne, le spose bambine tratta il problema delle donne che vengono imbustate nei burka e non possono studiare, non possono andare a scuola. Parla di problemi di mutilazioni sessuali, l'infibulazione, quindi problemi gravissimi che magari in certe popolazioni dell'Africa sono anche ancora purtroppo diffuse. Parla di questi problemi e il messaggio è assolutamente positivo perché queste donne riescono, nonostante le difficoltà sociali, riescono ad andare avanti, riescono a superare i loro problemi e riescono anche addirittura ad aiutare le loro amiche, amiche del loro paese e quindi vuole essere solo un messaggio di speranza.